E' stata effettuata dal medico Paolo Procaccianti dell'Istituto di Medicina Legale di Palermo l'autopsia sul cadavere di Antonino Cacciatore, 43 anni di Aragona, ucciso nella giornata di ieri con due colpi di pistola dal suo vicino di casa Vincenzo Spoto, pensionato di 76 anni. I risultati si conosceranno solo tra alcune settimane, confermato che il decesso di Cacciatore è avvenuto dopo il secondo colpo sparato dall'anziano. Intanto Spoto, sentito dal sostituto procuratore del Tribunale di Agrigento Adriano Scudieri, ha raccontato che da anni, fra lui e il vicino di casa, c'erano continui litigi verbali. Prima per motivi di confine fra i due appezzamenti di terreno e poi per questioni di vicinato. Anche ieri mattina, secondo i racconti di Spoto, i due avrebbero avuto l'ennesimo diverbio. All'improvviso sarebbero riesplosi i vecchi dissapori e Spoto, forse perché s'ha sperato, ha imbracciato il fucile da caccia, legalmente detenuto, e dalla finestra del primo piano della sua abitazione di villeggiatura ha esploso un primo colpo. Poi l'anziano è sceso in giardino e ha sparato un secondo colpo mortale. L'anziano stesso, dopo l'omicidio, ha chiamato i carabinieri di Aragona per costituirsi. L'uomo, difeso dagli avvocati Enrico e Fabio Quattrocchi, si trova ora rinchiuso nel carcere di Agrigento.